Grazie per il passaggio. Grazie a te che sei venuta. E perché me l'ha detto Giorgio, sarà per te? Beh, dovresti imparare a promuoverti un po' meglio. Va bene, io vado. Voglio vedere che fine ha fatto mio figlio. Sto là giocando con gli altri bambini. Lo sai che ultimamente si sta facendo degli amici? È vero? Mmh. Grazie. E di che... Grazie. 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 Grazie.